Ciao a tutti ragazzi, io sono PugGladeGamerMSM e benvenuti con il suo nuovissimo video rimasto in mosca. Oggi è uscita la mosca del flauto rara, nell'isola Fatata, sia nell'isola Fatata, sia nel santuario magico. Quindi adesso ritorniamo con i magici di area un elemento solo. Da quanto tempo? Aspettate che c'è pubblicità. Ok, vediamo se si può fare il gioco di memoria. Sì, si può fare. Allora vedremo come sarà, perché sarà disponibile stasera. Stasera sarà disponibile. Quindi vediamo se esce. Aspettate. Bene, eccomi qua. Vediamo se lo troviamo. Oddio. Strano, sembra un panda. Tipo, guardate. Vabbè. Ragazzi, che dire. Ah, non vi avevo detto anche che è l'uscita mercoledì scorso. La fase 5 dell'isola dell'Ambra. Ora ve la faccio vedere. Con armatile. Cioè, è bello però. Dovrebbe suonare un po' di più nella canzone. Perché suona solo nel versetto dove c'è Flower. Poi è disponibile di nuovo un letto. Poi c'è Wardle che fa sebra che nell'isola delle ossa. Strano. Poi il nuovo mostro a quattro elementi. Pong Ping. E' anche disponibile su Dawn of Fire. Che si fa con bucciolino e caliente. Beh. Ragazzi, che dire. E' ritornato a Mosca del Flotto Rara. Beh. Almeno lei avrà un nuovo amico. Quindi non ci vediamo in un prossimo video. Ciao.